Salve ragazzi e benvenuti anche oggi per un nuovo video. Oggi dobbiamo fare il più grande classico di video, ovvero Sony. Dobbiamo parlare! E ovviamente l'argomento è Concord, la nuova esclusiva Sony PlayStation che in realtà uscirà anche su PC, gioco a servizio continuo, Hero Shooter, presentato nell'ultimo State of Play che ieri ci ha fatto sapere che è in preordine e che costerà 40€ nella sua versione standard e 60€ nella sua Digital Deluxe Edition con dentro 16 skin e accesso anticipato a 72 ore e chi più ne ha più ne metta. Bene, questa decisione di effettivamente dare un prezzo a questo videogioco, anche se non prezzo pieno comunque 40€ nella sua versione standard, per me e non solo per me è un gravissimo errore. Ci sono tre motivazioni principali per cui ci sono dei grossi problemi. La prima è che il character design di questo videogioco è super iper derivativo di Guardiani della Galassia. È un palese scopiazzamento, scimmiottamento di quel character design. Sembra quasi che abbiano preso i personaggi di Guardiani della Galassia, li abbiano dati in passo con un'intelligenza artificiale, con la scritta Rifammeli in modo un po' diverso e fico. La seconda problematica, che forse è una delle più importanti insieme alla terza, è che questo gioco come tipologia, quindi Hero Shooter alla Overwatch o comunque Simil Arena Hero Shooter, anche perché il gameplay di sicuramente adesso andremo un po' a esplorare un po' meglio, non se ne sa tantissimo, ma è cruciale. Ecco, comunque un Hero Shooter nel 2024 è fuori tempo massimo. Il momento degli Hero Shooter era quando fondamentalmente era uscito il primo Overwatch, quindi 2016, 2017 e 2018. Già dopo quei 2-3 anni iniziali, lo stesso Overwatch, che era assolutamente il re incontrastato, aveva cominciato a perdere colpi e di fatto, anche rispetto a altri generi molto più duraturi e vecchi, tra virgolette, come i Battle Royale, sicuramente Hero Shooter è in decadenza. Lo stesso Overwatch con Overwatch 2 non ha poi così tanti giocatori rimasti, sono molti quelli scontenti di Overwatch 2. Quindi uscire adesso, nel 2024, dopo 8 anni da Overwatch 1, con un caratterizzazione scopiazzato da Guardia delle Galassia e Universo Marvel, che tra parentesi anche questo è in decadenza, mi sembra veramente una decisione molto fuori tempo massimo. Ma la terza problematica che riguarda esattamente poi questi prezzi è proprio il fatto che abbia un costo, cioè tutti, tutti i competitor di questo videogioco sono free to play, tutti. Sia quelli strettamente magari appunto Hero Shooter a la Overwatch, come Overwatch 2, che è gratis, ma come anche Marvel's Rivals, che è uscito da poco, forse ancora in realtà in beta, ma comunque è un Overwatch clone gratis, tra l'altro con i personaggi originali Marvel, ma anche se allarghiamo il campo da gioco ad altri gameplay comunque sempre in prima persona competitivi, come i Battle Royale, quindi come Apex Legends, Fortnite, PUBG, Warzone, sono tutti gratis! Sono tutti gratis! Praticamente Sony ora vorrebbe penetrare un mercato dove non è presente, con un genere che è in super declino, quello di Hero Shooter, mettendo un gioco a pagamento, che non ha neanche niente di particolarmente originale, anzi è una scopiazzatura di carattere design rispetto a eroi, per esempio Marvel, Guardiani dei Galassi. Tutto questo è una ricetta per il fallimento garantito ragazzi, fallimento garantito. L'unica cosa che gli dà una speranza a questo videogioco è che c'è proprio dentro Sony, dietro Sony, quindi c'è una potenza di marketing, di pubblicità incredibile, quindi potrebbero comunque dargli un piccolo respiro all'inizio, proprio perché bombarderanno di pubblicità, bombarderanno ovunque di pubblicità, non solo su internet ma anche fuori dall'internet, daranno sponsorizzate a chiunque streamer, influencer, per far vedere il gioco, farlo giocare e quindi potrebbe avere un piccolo balzo iniziale, una piccola inerzia iniziale, ma il fatto che sia a pagamento è un errore madornale. In realtà tutto poi si gioca sul gameplay, ok? La realtà dei fatti è che al momento nessuno ci ha giocato, la beta uscirà il mese prossimo e poi ad agosto effettivamente il gioco esce, quindi non sappiamo esattamente quanto è buono qualitativamente come gameplay, che è l'unica cosa che conta in realtà. Ve lo assicuro, i giocatori interessati a questo genere interessa fondamentalmente il gameplay, quindi se il gameplay è incredibilmente buono ci sono delle speranze. Ma anche fosse, io da ragazzi ve lo dico, anche fosse il miglior gioco mai fatto, concepito a livello di feeling, shooting, meccaniche, tutto quello che volete, cosa di incredibile, il top class assoluto, anche fosse così, questo price tag da 40€ è una stupidaggine incredibile. Perché se hai un gioco così valido dal punto di vista del gameplay, tu vuoi farlo free to play, vuoi che sia super accessibile a tutti, perché ragazzi è un mercato iper mega saturo quello dei shooter competitivi, sono tutti gratuiti, sono tutti con community gigantesche, non c'è più spazio. Anche se fai un gioco incredibilmente buono, anche se hai dietro Sony che spinge come il pazzo a livello di pubblicità e di sponsor, probabilmente per i primi mesi, per farlo partire a livello di community, ragazzi serve l'accessibilità economica, serve il fatto che sia gratis, serve che il tizio random che lo vede dallo streamer XYZ gli viene voglia di giocarlo e lo può provare subito gratis, non che gli deve pagare 40€. È una barriera d'ingresso stupidissima da mettere. E questo cosa denota ragazzi? Ovviamente denota che loro vogliono fare i soldi velocemente e poi magari non gli interessa in realtà questo servizio continuo. Quindi incassare magari il suo pubblico più affezionato o quelli più impressionabili all'inizio, raccogliere questi 40€ o 60€ da più persone possibile, poi si vede che non è esattamente l'idea di un gioco che vuole durare nel tempo, perché se tu hai delle buone idee per il lungo periodo, tu lo metti gratis, metti delle microtransazioni interessanti a livello di skin, cose cosmetiche che possono essere messe nel tempo e quindi tu fai un bel gioco che con una community che cresce negli anni fai tanti soldi, come ha fatto Apex, come ha fatto Fortnite, ok? Ci sono un sacco di esempi buoni e virtuosi. Alla base ovviamente ci deve essere un gioco di altissima qualità e di livello. Onestamente non mi sembra questo il caso e il price tag iniziale è super miope o meglio dire super avido, cioè vuoi fare i soldi subito? Te ne frega poco probabilmente di fare i soldi nel tempo. Detto questo ragazzi, io ero curioso di provarlo e vedremo se la beta è gratis e non c'è bisogno di aver preordinato il gioco per giocarlo, sono curioso di provarlo su PC. A me piacciono questi giochi, io ne ho giocati tantissimi, ho centinaia di ore su Overwatch, il primo, 2016, i vari Battle Royale quando erano usciti, i PUBG, ho giocato anche in Alpha, insomma ne ho giocati un sacco, insomma uno storico importante di, diciamo così, FPS competitivi giocati soprattutto tra il 2010 e 2020. Quindi mi interessa teoricamente vedere com'è, ma col cazzo che gli darò mai 40 euro, anche se fosse il gioco di Cristo improbabile che gli darò mai 40 euro per giocarlo, anche perché poi tutto dipende dalla community. Se non si crea una community poi il gioco muore. D'altronde è un gioco che si gioca in multiplayer, quindi se non ci sono i giocatori che ci giocano, il gioco è morto. Quindi secondo me insomma 40 euro per questo videogioco è un grandissimo errore o comunque un segno di molta molta abilità, cioè fare soldi subito e poi sti cazzi. Questi sono i miei due centesimi, fatemi sapere un po' cosa ne pensate sotto nei commenti che ne discutiamo. Noi comunque ci becchiamo prossimamente per altri video qua, sempre sul gaming. Grazie per l'attenzione, statemi sempre bene e alla prossima. Ciao ciao!